Buongiorno amici investitori, oggi torniamo a parlare di affitti brevi concentrandoci su quelli che sono i vantaggi sia per i proprietari di immobili che per gli inquilini. Io sono Dario Sicuro e benvenuti sul canale. Prima di iniziare ti chiedo di mettere un bel mi piace al video proprio qui sotto e di iscriverti al canale cliccando sulla campanella per rimanere sempre aggiornato sul settore immobiliare. Come sappiamo negli ultimi anni la popolarità degli affitti brevi è aumentata a dismisura tanto da creare anche qualche protesta tra gli abitanti dei grandi centri urbani a vocazione turistica. Considerando le condizioni attuali del mercato immobiliare è opportuno soffermarsi su come l'affitto breve possa essere una scelta vantaggiosa per entrambe le parti coinvolte. Partiamo dal vantaggio più immediato, la massimizzazione dei guadagni per i proprietari. Un affitto a lungo termine può indubbiamente garantire una certa stabilità finanziaria ma gli affitti brevi possono generare un flusso di reddito più elevato dovuto al maggior numero di affitti che è possibile ottenere durante l'anno. Inoltre in città con flussi turistici rilevanti i prezzi degli affitti brevi possono essere notevolmente più alti rispetto agli affitti a lungo termine permettendo ai proprietari di ottenere profitti più consistenti. Secondo vantaggio, affittare casa per brevi periodi offre una maggiore flessibilità ai proprietari. Questo perché è possibile scegliere di utilizzare la propria casa per brevi periodi quando non viene affittata. Se pensate alle seconde case in campagna, al mare o in montagna questo è un grande vantaggio per i proprietari. Ma veniamo ora a quelli che sono i vantaggi per gli inquilini. Affittare una casa per brevi periodi invece di andare in hotel offre agli inquilini l'opportunità di vivere un'esperienza autentica e immersiva. Chi affitta casa in un piccolo borgo o nel quartiere di una grande città ha la possibilità di vivere come un residente del luogo. Questo aspetto può arricchire notevolmente l'esperienza di viaggio e fornire un senso di appartenenza che può essere difficile da ottenere in altre forme di alloggio. Non solo, le case in affitto per brevi periodi spesso offrono una vasta gamma di servizi e confort che possono rendere il soggiorno più piacevole, soprattutto se si tratta di famiglie con bambini. Molti proprietari oggi hanno capito che investire nella qualità degli arredi, nelle attrezzature da cucina, connessione internet ad alta velocità, servizi di pulizia e assistenza 24 ore su 24 rende molto di più. Servizi e confort aggiuntivi infatti fanno sentire gli inquilini come a casa propria e migliorano la loro esperienza complessiva. Gli affitti brevi offrono agli inquilini una maggiore flessibilità rispetto agli affitti a lungo termine. Possono scegliere la durata del loro soggiorno in base alle proprie esigenze e desideri, senza doversi legare a un contratto di affitto a lungo termine. Questo vantaggio è particolarmente apprezzato dai viaggiatori frequenti, dalle famiglie in vacanza o dalle persone in cerca di un alloggio temporaneo o durante la ricerca di una casa permanente. In buona sostanza, se ci sofferma sui vantaggi per entrambe le parti, non ci deve sorprendere il fatto che gli affitti brevi sono diventati la principale modalità di locazione degli uomini. Amici, per oggi è tutto. Se il video ti è piaciuto, iscriviti al canale se ancora non hai fatto, clicca il tasto del mi piace per supportare il canale e ricordo di cliccare sulla campanellina per non perdere i prossimi video. Grazie per avermi seguito e al prossimo video.